Si apre con la solidarietà dell'Aula agli abitanti della riviera di Chiaia e ai lavoratori di Città della Scienza, la seduta odierna di Consiglio Comunale. Le parole del presidente Raimondo Pasquino sono dirette ai cittadini coinvolti nelle due tragedie che hanno sconvolto una città intera e ribadiscono l'impegno delle istituzioni per la ricostruzione della struttura di Bagnoli e la messa in sicurezza dell'area colpita dal crollo al ridosso del lungomare. Oggetto della seduta, la delibera sulla società di scopo ACN per l'organizzazione degli eventi di Coppa America, articolato il dibattito che ha condotto all'approvazione di modifica dello statuto. Fuori l'Unione Industriali, sarà invece la Camera di Commercio a farne parte insieme a Regione, Provincia e Comune. Con la somma di 300 mila euro, l'amministrazione cittadina contribuirà al capitale della società a cui viene affidata fino al 2020 la realizzazione degli eventi in città. Dobbiamo essere un partito, un consiglio comunale, un'amministrazione, un movimento, una linfa per la città. Questo è lo spirito a cui si deve affrontare, ma oggi parlavamo della modifica dello statuto di ACN, domani parleremo di altre cose, oggi non ci possiamo dividere su orientamenti politici di carattere generale, quello è il pensiero politico che magari esprimiamo quando bisogna pensare a cose diverse, ma la nostra città oggi è questo lo spirito che io farò in modo di costruire sempre di più nei prossimi settimane e nei prossimi mesi, una giornata molto importante e penso possa essere anche un giro di boa significativo dopo quasi due anni di amministrazione. Grazie.